Siete sui canali di LentiCar, automobili per tutti. Hyundai H350 si tratta di un furgone tre posti cassonato di notevoli dimensioni. Pensate che è lungo più di 6 metri e 50. È stato immatricolato a luglio 2017, ha percorso solo 26.000 km. Naturalmente è fatturabile con Ivesposta, unico proprietario, aziendale ed ora visioniamolo nell'interno nei particolari. Naturalmente l'abitacolo è in perfette condizioni. Il veicolo è finanziabile e se avete un usato lo permutiamo. E qui vediamo il chilometraggio 26.672 certificati, un anno di garanzia di conformità. Notevole l'equipaggiamento impianto radio con telefono bluetooth, aria condizionata, vetri elettrici, specchietti e retrovisori elettrici, 6 marce. Tutte le informazioni relative a pesi, portata e misure le trovate sul nostro sito lenticar.it Per ulteriori dettagli chiamateci immediatamente o mandateci un whatsapp.